Che progetto c'hai? C'è un progetto di andare a Schalme, sette giorni. Con lei? Perché te? Troppo domani io non te l'ho mai fatta. No, allora, siccome stiamo andando in diretta. Siccome ti vedo fuori con certi buttini, tu mi hai chiesto chi è, chi ne è, capito? Non parla spiritosa, devi andare con lei. Prima di tutto la Sara, quello che mi dici, è quello che è mio, è tuo. Questo è vero. Questo è vero, siccome non è il mio piano. Allora, Berlusconi ci fa di molto, no? Berlusconi? Come Berlusconi? Ha fatto uno spot, si gioca tutto su Limo, Berlusconi. Ho capito. Che ha detto la levo o chiamatemi Giulio Cesare? Eh, ha ragione. Berlusconi ha sostituito la guarda Marchia. Ora può vendere pentole, può vendere ogni cosa a televisione. Anche le creme anticellulite? Sì, 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 tutto, tutto, le creme anticellulite, tutto. Allora, Monti si è fatto vedere insieme a nipoti. Ecco. A me ci vedo tutti i giorni, sul giornale che ci si andava. Ho capito, Matteo, ma come deve votare? Allora, Sara, come voti tu? Secondo coessenza. Capito? Ci vuole cosci belli per votare secondo coessenza. È loce, è loce. Ma non che sono torte come si votano. Io voto Giannino. Giannino? Sì. Piglierà tre voti, il suo, il tuo e quello della sua moglie. Sì. Però mi piace tanto. Anche perché la mia ha detto ogni edadio. Mi piace tantissimo Giannino. Io voto Giannino, la persona più seria che c'è a Ciazzalezia. E quindi io lo voto. Allora, parliamo di Arezzo, che succede? Dunque, ad Arezzo succede che vieni bighe, vengono ora, ho visto il giornale per la campagna elettorale, Viene anche Fini, torna anche Fini. Se sta Fini. Se sta Fini. Capisci che essendo nell'1% vuol vedere se arriva all'1 e 2. Allora, ho saputo che l'Imu ha già al Comune di Arezzo 24 milioni di Imu in casse. Facciamo un appello. Visto che Fanfani ha da dare a me, alla Rita e a Luca 5.000 euro e ci ha sempre inventato che ce l'aveva. Ora ce l'hai. L'ultima telefonata che mi feci, allora vuol dire che mi fa, ti richiamo quando ce l'ho solo. Scusa, da poi che si è iniziato questa trammissione, con questi 5.000 euro di Fanfani, non hai mai smesso. A questo punto te li do io, ma non rompe più. No, Carlo, no, no. Ho te li do io. Non mi umiliare. No, ho te li do io. Ovvio. Tanto a me me li ridà Fanfani. Ora, io e te, da quando ti ho trovato con la figa, ti sei un po' esaltato, ti dico la verità. No, ma anche la mia moglie, non sa stare lo yub lì, come se vuoi, oddio. Lo yub. Voi pensate. Lo yub. Lo yub. Noi siamo sullo yub. Sullo yub. E te da tanto che ci sei, però. Ma come si fa? Come si chiama? Siamo, grazie a voi. Lo yub. Lo yub, lo yub, dimmi, aiutami. Mi pierdo qui. Ci sono, non sono. Avanzi, guarda, che bella che è la... Allora, Fanfani, niente. Fanfani, ci capite. Fa come ti pare. Ci capite. Ora si veste da mandrache. Lui? Ma carino, dai. Va sul carro delle orciolai e vestite da mandrache. Perché è bellino, dai, è bellino. Ma perché si veste da mela, anzi, da torsolo? Madonnina, mi dissocio io, eh. Io potrei arrivare... Ma vien dal bordo. Io potrei arrivare a l'arancia. Da mandrache, da mandrache. Io potrei arrivare a l'arancia, io a torsolo c'è. Senti, Sara, una domanda in diretta. Sì. Vuoi passare con me una notte di musica e magia? No. No? Peccato. Si trombava e sparivo. Appunto. Questa mi camminava in diretta. Ho detto, no, veramente, veramente. No, siamo a dei livelli. Siamo a... Per me siamo alla frutta, quindi, proprio semplicemente. Dagli in bacino, in ciusura. No, ma... Sì, in bacino, la... Ma, volevo dire, qui si dice altro. Di che vuoi parlare? No, dei coni, del limino. Del coni? No, niente. Ecco. Ma pensa fate fare qualche cono, vero? Qualche cono. Qui siamo a posto. Ciao. Scusate, io, insomma... Basta. Basta. Sorridi. Ciao. Ciao. Oh.